Ciao a tutti ragazzi, come state? Bentornati in questo nuovo video. Scusate questi capelli ma causa isolamento non li taglio da tipo due mesi. Oggi volevo rispondere a una delle domande che mi fate molto molto spesso. Come si fa a diventare astronauti? Diventare astronauti è un processo che richiede tanta dedizione, tanto tempo, passione e impegno. Ma a parte questo ci sono proprio delle credenziali iniziali senza le quali non potete neanche sperare di arrivare ad una selezione. Andiamo a vedere insieme quali sono questi step da seguire. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ovviamente di attivare anche la campanella delle notifiche. Diventare astronauti. Punto numero uno, bisogna essere cittadini di una nazione che abbia un ente spaziale. Questo perché molto spesso gli enti spaziali hanno delle tecnologie che sono poi condivise anche in ambito militare. Quindi se non siete cittadini è molto difficile che possiate pensare di diventare astronauti, anzi direi impossibile. Ma quali sono le nazioni che possiedono appunto un ente spaziale? Beh ovviamente gli Stati Uniti con la NASA, l'Unione Europea che possiede l'ESA, l'ente spaziale europeo, poi ci sono la Russia, la Cina, l'India, il Giappone. Insomma ci sono diverse possibilità. Naturalmente per quanto ci riguarda, per voi che state guardando questo video, ovviamente si parla di ente europeo. L'ente europeo assume gli astronauti da tutti i paesi fondamentalmente dell'Unione. L'Italia, la Spagna, la Francia, Germania, Svezia, Norvegia, Belgio, in generale tutti i paesi principali dell'Unione. Quindi se siete un cittadino di qualunque di queste nazioni potete far parte dell'ESA. Secondo requisito fondamentale, rientrare nel range di età richiesto. Infatti ci sono dei range precisi che vengono richiesti per i nuovi astronauti. In particolare l'ESA assume degli astronauti fra i 27 e i 37 anni. Questo ovviamente non è uniforme, infatti per esempio la NASA non ha un range preciso. In generale fino ad ora sono stati selezionati degli astronauti di età compresa fra i 26 e i 46-47 anni. Quindi in generale si può dire che ci sia un range più ampio. Ovviamente poi ci sono anche dei requisiti fisici come un'altezza minima e un'altezza massima. Questo perché non possiamo essere troppo bassi ma neanche troppo alti, altrimenti non staremmo neanche nelle cabine. L'ESA in particolare seleziona degli astronauti di altezza compresa fra i 153 centimetri e i 190, quindi fra il metro e 53 e il metro e 90 di altezza. La NASA ad esempio va dai 157 centimetri fino ai 190,5. C'è quel virgola 5 che cambia tutto. Non saprei dirvi il perché di questa differenza sinceramente, forse le navicelle americane sono più grandi, non ne ho idea. E poi ovviamente c'è il requisito fondamentale della vista. Dobbiamo avere 10 decimi ad occhio, cioè in pratica bisogna vedere perfettamente. L'utilizzo di lenti o operazioni per la correzione dei difetti visivi sono concesse. Quindi se ad esempio volete farvi, che ne so, un'operazione all'occhio per correggere l'astigmatismo, la miopia, quello che avete, si può fare e potrete comunque essere selezionati. È ammesso che ci sia. Ciò nonostante, a meno che appunto non abbiate effettuato un'operazione correttiva, se ad esempio portate le lenti non potete comunque avere troppi gradi in meno rispetto alla vista normale. Cosa voglio dire? Che c'è un range di diottrie sferiche all'interno del quale dovete rientrare nel caso in cui abbiate dei difetti visivi. Non saprei dirvi esattamente il perché, ma presumo abbia a che fare col fatto che anche se magari portate le lenti, se avete un difetto visivo eccessivamente marcato, ecco questo potrebbe comunque portarvi dei problemi, soprattutto dopo lunghi periodi nello spazio. Oltre alla vista ovviamente anche la pressione sanguigna è fondamentale. Da seduti a riposo non dobbiamo avere più di 140 su 90. Insomma in generale bisogna godere di una buona salute. Punto fondamentale numero 5. Imparare le lingue. In particolare una naturalmente, l'inglese, che è la lingua ovviamente fondamentale. Nella stazione spaziale internazionale, la lingua ufficiale è l'inglese. Si parla inglese tutto il tempo, non esiste altra lingua al di fuori dell'inglese. Quindi dovete padroneggiarlo molto bene, avere una conoscenza avanzata della lingua e poter essere in grado di affrontare conversazioni complesse e anche specifiche senza difficoltà. Per quanto riguarda altre lingue ovviamente più ne sappiamo meglio è. E' chiaro che non vi dico di impararvi che ne so lo swahili, almeno per quanto riguarda l'ambiente degli astronauti. Se volete proprio impararvi qualche lingua in più vi consiglio il russo e il cinese, quelle lingue delle altre agenzie spaziali che sono diciamo quelle più parlate. In particolare la conoscenza del russo è molto ben vista durante il processo di selezione. Quindi vi consiglio vivamente, nel caso in cui vogliate seguire questo percorso, di cominciare a intraprendere la lingua russa. Imparare a nuotare bene. Perché imparare a nuotare bene? Cioè cosa me ne faccio di nuotare? La maggior parte dei test e delle pratiche di addestramento per gli astronauti si svolge sott'acqua. Tant'è che proprio per citarne uno, uno degli esami, dei test che viene fatti, è far percorrere all'apprendista astronauta un centinaio di metri sott'acqua con la tuta spaziale addosso. Quindi padroneggiare diciamo la questione acquatica è fondamentale. Se avete un brevetto da sub tanto meglio, che sia principiante o avanzato, è sicuramente molto ben accetto. Anche in questo caso ragazzi, se siete che ne so al liceo, oppure avete un mese di tempo libero d'estate perché siete all'università e avete finito gli esami prima, fatevelo un corsettino di sub piccolino, dai piccolo. Io l'ho fatto, è anche divertente, quindi vi divertite e avete una competenza in più. Perché stare un mese senza fare niente? Sfruttate questi tempi morti per buttare dentro quelle conoscenze che altrimenti non avreste il tempo di acquisire. E qui passiamo ai requisiti accademici. Non è richiesta una media voti universitaria o un voto di uscita dal liceo. Però in generale è buona norma già uscire con una buona valutazione dalle scuole superiori. Dopo le scuole superiori ci sono due possibilità. La prima, fare l'università. Quale università scegliere? In generale tutte quelle che riguardano diciamo l'ambito scientifico vanno benissimo. Prediligere ad esempio la fisica, astrofisica, astronomia, l'ingegneria di qualunque tipo, matematica, diciamo tutte le materie che riguardano la tecnologia. Anche informatica ad esempio potrebbe andare bene. A seconda dell'agenzia spaziale alcune facoltà legate comunque all'ambito scientifico purtroppo non sono valide per la missione. E questo è specificato nei singoli siti web. Ad esempio se andate sul sito della NASA c'è una lista di facoltà di lauree che non contano per essere ammessi alla selezione. Ovviamente anche in questo caso uscire con dei buoni voti non guasta per niente e se usciamo anche magari da una università un pochino rinomata non fa sicuramente male. Questo perché le raccomandazioni dei nostri professori possono aiutarci e se abbiamo alle spalle il supporto di studiosi non dico conosciuti ma comunque che vengono da un'università di livello è sicuramente una cosa che si tiene in considerazione. L'altro percorso da proseguire che consiglio fortemente di considerare a coloro che stanno guardando e vogliono intraprendere questo cammino è quello di arruolarsi. Perché arruolarsi? Ovviamente arruolarsi intendo come pilota in questo caso per due ragioni fondamentali. Innanzitutto se uno non vuole fare l'università non si sente obbligato a farla e chi è un militare, chi è un pilota ad esempio può essere comunque anche senza laurea ammesso alle selezioni per diventare astronauta. Inoltre la preparazione fisica e mentale a cui verrete sottoposti durante l'addestramento militare vi aiuteranno senza dubbio nei colloqui psicologici, nelle prove fisiche che vi aspettano al varco della selezione dell'ESA o NASA quello che è. Questo lo dico perché ovviamente la valutazione psicologica è importantissima. Quindi consiglio vivamente a chi di voi ha intenzione di intraprendere questo percorso di considerare anche il potersi arruolare. Una volta finita l'università o una volta terminata la nostra istruzione militare dobbiamo avere una certa esperienza diciamo lavorativa. Un po' di esperienza lavorativa è infatti richiesta per poter fare domanda di ammissione. Nel caso in cui siamo laureati dobbiamo avere tre anni di esperienza lavorativa nel settore. Sono un po' tanti? Niente panico. Potete considerare di proseguire gli studi ad esempio con un master e un dottorato. Ovviamente qui è a discrezione vostra. Tenete conto che una volta usciti da un dottorato avrete molta esperienza a livello di ricerca. Avrete pubblicato sicuramente delle ricerche però a livello lavorativo pratico sarete sicuramente più indietro di altri. Considerate tutte le vostre opzioni. Se invece siete usciti dall'accademia militare è molto molto semplice. Basta avere, basta avere mille ore di esperienza di volo. Quindi mille ore in cui avete volato su un jet. Eh sono tantine. Quindi se siete un militare, un pilota e avete mille ore di esperienza di volo potete fare la vostra domanda di ammissione. A questo punto abbiamo raccolto tutte le nostre credenziali. Non ci resta che candidarci. Quando candidarci? Le selezioni della NASA per esempio avvengono con regolarità ormai da tempo una volta ogni due anni circa. Quelle dell'ESA invece avvengono molto più di rado. Per farvi un esempio da quando è nata l'ESA ci sono state solamente tre selezioni a distanza circa di dieci anni l'una dall'altra. Ad esempio l'ultima selezione per gli astronauti europei è avvenuta nel 2009. Quella precedente avvenne a metà degli anni 90. Quindi non c'è una scadenza precisa. Praticamente l'ESA fa le selezioni quando ha bisogno. Quindi se siete interessati state in campana per l'apertura delle selezioni, controllate periodicamente il sito internet. Una volta mandata la nostra candidatura non ci resta che aspettare e incrociare le dita. Bene ragazzi questo è tutto quello che c'è da sapere per diventare astronauti. Ovviamente qui abbiamo parlato di requisiti tra virgolette minimi e come ho già detto prima più competenze più conoscenze avete e meglio è. Dovete considerare il fatto che tutte le persone con cui andate a confrontarvi hanno questi requisiti come li avete voi e ci sono fatti un mazzo così per poterci arrivare. Quindi non accontentatevi di ottenere proprio il minimo sindacale. Cercate di andare un po' oltre. Cercate di acquisire quella competenza in più. Cercate di fare più esperienze possibili. Pubblicate una ricerca. Scrivete un libro. Fate uno sport estremo che è un paracadutismo. Prendete un brevetto da paracadutismo. Può essere figo, può essere utile e anche divertente. Uno sport estremo che ti aiuta che ne so a reagire sotto stress. Non sottovalutate nessun tipo di esperienza perché ogni esperienza che farete nella vita potrà aiutarvi e potrà fare bella figura su un curriculum che andrete poi a presentare non solo per diventare astronauti ma per qualunque tipo di lavoro. Sapere una lingua in più, saper fare in generale quella cosa in più potrebbe essere il vostro salvagente. Bene ragazzi per oggi è tutto. Se avete delle domande non dimenticate di andare a seguirmi anche su Twitch. Il link ve lo lascio in descrizione. Nelle mie live potrò rispondere in tempo reale a tutte le vostre domande. Se il video vi è piaciuto ragazzi come sempre lasciate un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti o anche se avete suggerimenti per altri video. Qua è Victor e noi ci vediamo a un prossimo video.